frittata di patate un piatto semplice rustico ma davvero gustoso un salvacena perfetto benvenuti nel canale di tavola serena andiamo a preparare insieme questo piatto iniziamo dalle patate ce ne serviranno circa 360 grammi questo e tutti gli altri ingredienti li trovate ricapitolati durante il video e anche sotto all'interno del box informazioni andiamo a eliminare la buccia e poi andiamo a ricavare dei cubetti più piccoli possibile più piccoli sono meglio cuoceranno non vado a sbollentare le patate ma le vado a cuocere direttamente in un tegame antiaderente vado a prendere anche un pezzettino di porro va benissimo anche della cipolla dello scalogno le dosi in questo caso le lascio a voi in base ai vostri gusti andiamo ad aggiungere olio extravergine d'oliva in un tegame antiaderente dove abbiamo già aggiunto le patate e il porro un pizzico di sale e facciamo cuocere inizialmente faccio cuocere a fuoco medio per far creare una piccola crosticina le patate le miscolo di tanto in tanto aggiungo poi un goccio d'acqua sul fondo e poi vado a coprire con il coperchio e vado a terminare la cottura serviranno all'incirca 10 minuti a fuoco medio nel frattempo preparo le uova vado a rompere tre uova all'interno di una ciotola aggiungo un goccio di latte che è un consiglio che mi ha dato mia suocera per avere una frittata bella morbida vado ad aggiungere un po di formaggio grattugiato e del pepe o spezie che volete aggiungo anche delle erbe aromatiche io ho scelto il basilico il prezzemolo ma sta benissimo anche del rosmarino tritato quello che volete in base ai vostri gusti anche l'erba cipollina sta benissimo andiamo a mescolare per bene questo composto semplicemente con una forchetta ci vorrà pochissimo giusto il tempo di amalgamare tutti gli ingredienti che abbiamo scelto riprendiamo le patate che nel frattempo saranno cotte dobbiamo assaggiarle devono proprio essere cotte diamo una mescolata e poi le distribuiamo per bene sul fondo in modo omogeneo vado a trasferire poi semplicemente tutto il composto di uova anche in questo viene ben distribuito e poi copro con il coperchio cuocio fino a quando la parte sotto sarà ben cotta e la parte sopra non sarà più liquida a questo punto siamo pronti per girare la frittata non vi faccio vedere il passaggio perché non sono riuscita a inquadrarmi comunque mi aiuto con il coperchio e semplicemente la capovolgo lascio cuocere un paio è ben cotto e ci siamo la frittata è pronta davvero pronte in pochissimo tempo ed è buonissima basterà abbinare un po di verdura e ci siamo è un piatto completo poi spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un pollicino in su iscrivetevi al canale per non perdere tutti i futuri contenuti qui vi lascio un'altra ricetta sempre con le patate che spero vi piaccia e noi ci vediamo nel prossimo video ciao